dal Vangelo secondo Luca in quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande allora Gesù conoscendo il pensiero del loro cuore prese un bambino se lo misi vicino e disse loro chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato chi infatti è il più piccolo fra tutti voi questi è grande San Luca racconta queste parole di Gesù e sono le parole che concludono la prima parte del Vangelo poi Gesù inizierà il suo grande viaggio verso Gerusalemme nasce dunque una discussione all'interno del gruppo dei discepoli su chi fosse il più grande e Gesù per risposta prende accanto a sé un bambino se lo pone accanto se lo mise vicino e ai discepoli che cercano chi è grande risponde per essere grandi si deve accogliere il piccolo perché nella comunità il più piccolo è il più grande Gesù è ritornato altre volte sul tema dei bambini gli ha benedetti ha detto di non scandalizzare i piccoli ha detto di farsi come bambini in questo testo Gesù sottolinea la parola accogliere bisogna accogliere il piccolo perché il piccolo è il più grande che cosa vuol dire accogliere gli pensiamo alla prima volta in cui si parla di accoglienza di un piccolo ed è proprio Gesù che viene accolto nelle braccia del vecchio Simeone accogliere in questo caso vuol dire che Simeone lo prende tra le braccia pieno di gioia perché lo ha riconosciuto come l'inviato di Dio lo ha riconosciuto come luce per tutti i popoli gloria del popolo di Israele ha riconosciuto dunque il legame profondo tra Gesù e il Padre quel piccolo era inviato del Padre ecco Gesù dice che questo atteggiamento deve essere presente nella comunità accogliere il piccolo vuol dire riconoscerlo come l'amato da Dio il protetto da Dio il preferito da Dio proprio per la sua debolezza per la sua piccolezza e quindi prendersi cura del piccolo accoglierlo tra le braccia dare affetto, amore, accoglienza al piccolo vuol dire dare affetto, amore, accoglienza a Dio ecco la logica della grandezza il piccolo non solo per età ma possiamo pensare al piccolo anche sotto altri aspetti il più debole nella fede colui che ha pochi doni spirituali colui che non si impone per capacità singolari o forse anche piccolo colui che è segnato dalla fragilità del peccato ecco questo all'interno della comunità deve essere accolto, curato messo vicino ad ognuno di noi ripensiamo alle grandi discussioni che per esempio sono capitate nella comunità di Corinto dove c'era in fondo la ricerca dei doni spirituali più significativi più evidenti come era quello di profetizzare di parlare in lingua e si disprezzavano quei cristiani che non avevano doni particolari e Paolo ricorda che nel corpo noi abbiamo più attenzione più cura proprio per le parti che riconosciamo più vergognose e lui dice quelle che non mettiamo in vista eppure sono coperte sono curate così nella comunità dice il Signore Gesù la grandezza sta nell'accogliere il piccolo pensiamo anche nelle famiglie se c'è una debolezza se c'è una malattia e soprattutto il piccolo che è arrivato in famiglia subito tutto si concentra nell'accoglienza di chi è più debole questa è la caratteristica e lo stile della comunità cristiana rendersi conto di questa indicazione solo è l'unica strada perché una comunità possa superare le tensioni perché la voglia di emergere la voglia di contare è radicata in noi e può essere superata non reprimendola ma orientandola impegnando la nostra volontà di fare la nostra volontà di emergere dentro l'attenzione dell'accoglienza del piccolo notiamo però ancora una volta vorrei notare un aspetto particolare che può essere preso da questo Vangelo l'ho già ricordato altre volte ma credo sia importante tenerlo presente perché delinea una strada anche per la nostra comunità per ogni comunità Gesù quando parla di piccoli li accoglie li benedice li prende in braccio ma non parla mai a loro non fa mai catechesi a loro non fa mai discorsi a loro a loro dà il segno fisico dell'accoglienza del metterli in centro della cura poi si rivolge agli adulti e agli adulti parla come in questo caso invitandoli ad accogliere il piccolo come il grande nella comunità ecco credo che questo stile di Gesù deve diventare anche il nostro stile penso a questo momento in cui nella parrocchia si comincia a prendersi cura dei piccoli nel cammino di iniziazione cristiana e qualche volta c'è nella tradizione il rischio di porre la domanda quando si farà la comunione quando si farà la cresima ma si pensa che questo obiettivo viene raggiunto attraverso una serie di incontri fatti ai piccoli in realtà questi possono anche servire però Gesù oggi ci ricorda che il metterci vicino ai piccoli significa convertirci noi grandi significa mettersi in cammino noi grandi significa per noi diventare più aperti alle parole del Vangelo e proprio anche più aperti a partire dal compito che abbiamo verso i piccoli preghiamo dunque oggi per i nostri piccoli per i piccoli della nostra comunità ma anche preghiamo per noi adulti nella fede perché ci assumiamo le nostre responsabilità e ci mettiamo accanto meglio mettiamo i bimbi accanto a noi nel cammino di crescita nella fede grazie a tutti grazie a tutti